Sono immagini che segnano il primo momento ufficiale in vista della giostra, sequenze che riconducono a un momento rituale che introduce la settimana giostresca. Sabato 15 giugno, prima cerimonia ufficiale per la 145esima edizione della Giostra del Saracino. Appuntamento alle 21.30 in piazza del Comune con la cerimonia di estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani. Teletruria, confermando il suo impegno tecnico e giornalistico per la manifestazione, trasmetterà in diretta l'intera cerimonia da Piazza della Libertà. Novità sul piano scenografico, il palco sul quale si svolgerà l'estrazione è stato infatti rinnovato grazie al sostegno di uno sponsor privato. Questo è il programma della serata. Alle 20.45 ritrovo dei figuranti in piazza della Badia. Alle 21 corteo degli armati per raggiungere il Palazzo dei Priori, percorrendo via Cavour, piazza San Francesco, via Cesalpino e piazza del Comune. Alle 21.30 consegna dello scettro da parte del sindaco al maestro di campo. I paggetti dei quartieri estraggono l'ordine delle carriere, seguirà il giuramento dei capitani dei quartieri e quindi la lancia d'oro viene portata in cattedrale dove rimarrà fino al giorno della giostra. Alle 21.15 dalla cattedrale i quartieri fanno ritorno alle loro sedi. Da domenica 16 a martedì 18 giugno dalle 20.30 alle 23.30 in Piazza Grande si svolgeranno le prove dei giostratori secondo l'ordine di carriere estratto. Mercoledì 19 giugno a partire dalle 21.30 in programma la simulazione di gara. Giovedì 20 giugno alle 21.30 prova generale dedicata alla memoria di Vittorio Farzetti, mentre venerdì 21 alle 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà in forma solenne la cerimonia di bollatura dei cavalli e in vestitura dei giostratori.